Dopo 800 anni riportiamo San Francesco in Terra Santa per provare ad essere come lui, capace di attraversare i confini in un luogo ferita. Proprio come otto secoli fa il poverello si recò pellegrino nei luoghi santi in un tempo altrettanto difficile perché segnato dalle crociate col desiderio di costruire ponti e non muri. Così Fran Matteo Brena, commissario di Terra Santa dei Frati Minori di Toscana e coordinatore del Comitato per gli 800 anni delle stimate di San Francesco, descrive il pellegrinaggio che da lunedì 30 settembre a sabato 5 ottobre porterà lui ed altre dieci persone, tra frati e laici, nella terra assegnata dagli avvenimenti della salvezza mentre imperversa la guerra. La delegazione si muoverà tra Gelusalemme e Betlemme per portare la reliquia nelle comunità cristiane della zona. Il 2 ottobre, uno dei momenti centrali del viaggio, sarà infatti sancito il gemellaggio fra la basilica dei Gezzemani, luogo che custodisce la memoria delle ore drammatiche della passione di Gesù e il santuario della Verna, pazzo della memoria della piena conformazione dell'amato. In Terra Santa la delegazione celebrerà anche le ricorrenze legate alla festa liturgica di San Francesco. Il 3 ottobre il suo beato transito e il 4 ottobre la festa vera e propria del Patrono d'Italia, in comunione con tutte le realtà francescane, in particolare con la comunità della Verna, dove il 4 ottobre alle 15, dopo la processione alla Cappella delle Stimmate, il Vescovo di Arezzo Cortona e Sansepolcro, Monsignor Andrea Migliavacca, chiuderà ufficialmente la porta santa per l'indulgenza, seppure la stessa indulgenza concessa dalla Santa Sede per questo tempo giubilare, è stata prorogata al 31 dicembre.